Lo scorso 18 maggio si è celebrato a Livorno il processo relativo alla gala sulle concessioni per l'affinamento dei servizi della Prodo Turistico di Marciana Marina, che vede alla sbarra, per i reati di turba attiva d'asta e abuso d'ufficio, il sindaco Andrea Ciumei, il fratello Stefano e gli imprenditori Giulio Schenone e Gianfranco Linari della Portofino SRL e l'ex tecnico del comune Bruno Grasso. Nel corso dell'udienza il Pubblico Ministero ha chiamato a testimoniare colui che fece partire l'inchiesta giudiziaria, l'ex consigliere comunale ed esponente di Lega Ambiente Umberto Mazzantini. Successivamente è stato sentito un militare delle Fiamme Gialle che aveva effettuato le indagini per conto della Procura Labronica. Il militare ha riferito delle intercettazioni e dei documenti sequestrati con i quali l'accusa ha cercato di dimostrare uno dei capi di imputazione, ovvero un preaccordo tra gli imputati per turbare l'esito del bando di gara del Porticciolo. Nel corso del processo sono emersi gli interessi dei genovesi, così venivano citati nelle mail Giulio Schenone e Gianfranco Linari, per mettere le mani sul moletto del pesce da utilizzare per far attraccare i croceristi e i tender dei panfili e dei mega yacht. Il sotto ufficiale della Guardia di Finanza inoltre ha riferito anche un altro particolare importante, ovvero che nel primo piano strutturale c'era anche la previsione di edificare un hotel adiacente al moletto del pesce, in un terreno di proprietà della madre di Schenone, ma gli imputati, una volta venuti a conoscenza delle indagini e delle intercettazioni a loro carico, abbandonarono e stralciarono il progetto per l'edificazione della struttura alberghiera, nell'intento di evitare ulteriori conseguenze. La prossima udienza del processo si terrà il 22 giugno.